Un grande onore di essere eletto in questa Accademia e sono particolarmente felice di essere con voi oggi. Proverò di parlare in italiano, ho messo i sottotitoli in inglese se l'accento francese è troppo pesante. Oggi vorrei spiegare perché penso che i concetti e i metodi di fisica statistica dei sistemi complessi possono essere utili per fabbricare un modello di intelligenza artificiale, una teoria dell'intelligenza artificiale. Lo sappiamo tutti che la tecnologia dell'intelligenza artificiale è una vera rivoluzione. Qui ho messo un po' di momenti chiavi dello sviluppo recente dell'AI, iniziando a un momento ben preciso che è il 2012. Il 2012 sono i primi programmi di rete neurali, del quale parlerò dopo, che riescono a vincere tutte le competizioni per analizzare e classificare le immagini. E da questo momento in poi, ogni due o tre anni, ci sono stati grandi sviluppi e anche grandi sorprese, anche per la gente che lavora nel campo. Qui ho fatto un elenco, iniziato con forse con i games, con il Go in 2015. Anche in 2017 c'era una nuova versione di AlphaGo che era molto impressionante perché non doveva contare sulle partite giocate precedentemente per imparare. Riusciva a generare se stesso delle partite e a imparare delle partite che genera stessa. Poi nella scienza probabilmente il momento più cruciale è quello dell'AlphaFold che riesce a dare predizione molto buone sul protein folding. E direi che da questo momento in poi l'intelligenza artificiale comincia ad avere un impatto maggiore in varie discipline scientifiche, non solo in biologia, chemica, fisica. Ero quest'estate al convegno generale della società francese di fisica impressionato dal numero di conferenze che menzionava l'intelligenza artificiale in un modo o nell'altro. E poi l'ultimo punto che volevo sottolineare è l'arrivo del CGPT l'anno scorso per la prima volta un modello di linguaggio abbastanza semplice che è un modello tutto probabilistico che prova a indovinare la parola seguente basata sul testo precedente riesce a produrre delle frasi che sono sia grammaticalmente che semanticalmente che sono corrette. E questo è un passo avanti molto notevole. Dunque da questo in poi vorrei spiegare un po' che cosa sono i costituenti elementari di questa nuova tecnologia, che cosa sono le domande principali e come forse la fisica statistica potrebbe essere il modo di dare un contributo a questo. Allora il grande progresso è venuto da quello che si chiama machine learning con reti neurali. Allora nella machine learning uno usa un algoritmo, la machine che mostro qui, e questa machine riceve un input che potrebbe essere un'immagine e deve produrre un output. Questo si chiama supervised learning, è una delle versioni dell'intelligenza artificiale moderna. Dunque spesso si prende questo esempio di un'immagine che può essere un gatto o un cane e la machine, la macchina deve dire se è un, deve dire cat o dog. E come fa questo? Allora, prima che cosa sono questi algoritmi? Questi algoritmi sono reti neurali, dunque sono basati su neuroni che sono organizzati, questo funziona, che sono organizzati a strati qui. A sinistra c'è il stato di input dove si mette l'immagine. Poi ci sono vari strati di quelli piccoli moduli che sono chiamati neuroni artificiali, che poi alla fine l'output si deve dire se uno è riconosciuto se è un gatto o un cane. I neuroni artificiali sono un po' delle caricature di quelli che sono state descritte nei bellissimi disegni di Ramon y Cajal nel talk precedente, che sono moduli che prendono l'input dei neuroni che sono a sinistra e questi input vengono sommati con un peso che è l'efficacità della sinapsi fra il neurono precedente e il neurone che fa il calcolo. E poi c'è una threshold, una funzione non lineare che viene applicata. Sono moduli molto semplici, alla fine fanno un'operazione lineare e una non linearità. E questo messaggio lo passano a destra, eccetera, eccetera. Adesso queste rete onorali che sono usate in tutti questi nuovi programmi possono avere miliardi di neuroni, centinaia di strati e un numero di parametri. Qui i parametri sono l'efficacità della sinapsa, di questi parametri. Per ogni riga qui c'è un parametro che deve essere fissato. E dato questo parametro il map tra input e output è ben definito. E dunque il numero di parametro è assolutamente enorme, può essere nel range di 10 alla 11, 10 alla 13. Allora questo non viene programmato, ha imparato a fissare tutti questi parametri guardando dati sulla base di database. Dunque la cosa che viene usata è questo. Uno ha a disposizione grande database di immagine. Se vi siete chiesto perché la gente mette immagine del suo gatto sul web è per aiutare la scienza che poi usa questi database. Dunque uno deve avere una grande database di immagine di gatti e di cani, che sono gli input che chiamo Ximu, e poi per ciascuno uno deve avere il label. È un gatto o un cane. E dunque c'è qualcuno che ha fatto il label per ciascuna delle immagini. E allora da questo in poi la macchina, l'algoritmo, prova di adattare tutte queste miliardi di efficacità sinaptiche in modo tale di riprodurre, di avere un algoritmo che per ciascuna delle immagini della database produce il label che è quello giusto. Questa è un'ottimizzazione in uno spazio molto molto alto perché il numero di parametri è grande. Dunque è difficile, però è un grande successo di riuscire a farlo. E poi una volta che questo è fatto c'è un secondo momento che è cruciale, che è quello della generalizzazione. Cioè uno può costruire un algoritmo che è capace di riconoscere tutte le immagini in una database, però sarà capace di generalizzare o no? E questo si fa guardando nuove immagini che il sistema non ha mai visto. Allora questo alla fine sono, se uno guarda bene che cosa succede, questi sono i campi, diciamo l'input, sul quale i neuroni all'interno del sistema sono più sensibili. Dunque nei primi layers si vede che vedono essenzialmente delle cose molto facili, diciamo, delle reti, eccetera. E poi poco a poco si fanno l'aggregazione di questo finché sono sensibili a uno sguardo, a un naso, eccetera. E alla fine riescono a riconoscere un viso, per esempio. Dunque si vede che è un nuovo modo di organizzare, la macchina se stessa ha prodotto questo, avendo guardato tutta la database. E dunque si vede che è un nuovo modo di organizzare il calcolo che è abbastanza gerarchico, comincia con scale piccole e poco a poco riesce ad aggregare tutta l'informazione per avere informazione finale. Qui vorrei fare una piccola parentesi perché queste reti unorali, già l'intelligenza artificiale esiste da 70 anni, e poi queste reti unorali organizzate a strati così e anche con il learning algorithm che si chiama backpropagation esisteva già negli anni 80 e negli anni 90 e uno si può chiedere qual è la novità. Perché nel 2012 ha cominciato a essere così importante e non prima. E la grande novità è probabilmente la capacità di calcolo. La capacità di calcolo è il fatto che abbiamo dei database che sono molto grandi e che sono a disposizione. Qui questo plot è interessante che dice il numero di floating operation flops che sono stati usati per allenare, per trovare tutti questi parametri guardando la database. Dunque è un'operazione molto grande per darvi una scala. Questo punto qui è 10 alla 20 e qui è una scala logaritmica. E dunque, se guardate qui nel 1980, qui nel 2012 l'inizio di queste reti che riescono ad analizzare delle immagini, questa era più o meno la legge di Moore, cioè l'uso della capacità di calcolo raddoppiava ogni due anni. Qui raddoppia ogni 3.4 mesi e anche il trend più recente è quasi ogni due mesi. Dunque abbiamo un uso di capacità di calcolo assolutamente incredibile e che si sta accelerando. E qui, questo è GPT, GP33 o chat GPT, eccetera. Più o meno, se uno guarda, ha fatto un numero di operazione che è facile di ricordare, è 10 alla 24. Ha fatto una mole di operation per allenare questa rete che sta ancora aumentando adesso. Dunque, si vede che è una grande... tornerò a questo consumo di risorse. Allora, a parte questo, ci sono anche altri elementi che sono stati cruciali per questo sviluppo recente, in particolare la disposizione di biblioteche di linguaggio e di programmi molto efficienti. Quali sono le domande principali che uno può porsi a proposito di tutto questo? Al momento in una tecnologia, diciamo, si vede che funziona o funziona su alcuni... ha risultati impressionanti in alcuni casi e si può chiedere ma perché funziona questo modo di imparare dalla statistica di una database? Alla fine si tratta di un'ottimizzazione in uno spazio di dimensione molto alta che dovrebbe essere un processo difficilissimo. E dunque questa è la prima domanda. La seconda domanda è fare questo training come fare un fit di una funzione in alta dimensione usando un numero di parametri che è molto alto fra 10 alla 10 e 10 alla 13. Dunque sappiamo tutti che se uno vuole fare un fit di una curva con 5 parametri è già un po' pericoloso generalmente. Allora fare un fit di una funzione con 10 alla 10 parametri sembra una cosa insensata e uno può dire ma perché riesce a generalizzare? Perché non fa overfitting? Questo è legato anche alla database. E poi ci sono problemi particolari il fatto che questo training ha bisogno di un grandissimo numero di data e poi il risultato è un algoritmo che se viene presentato per esempio un'immagine fa un risultato. Però non abbiamo una buona conoscenza di come riesce a produrre il risultato. E dunque questa è un'altra domanda molto importante. e poi vorrei manzionare questi due altri punti il fatto che l'intelligenza artificiale generata così non ha un'intelligenza generale non ha un modo di ragionare non ha una rappresentazione del mondo non ha una coscienza non ha un meccanismo di attenzione anche se la parola attenzione esiste ma è molto particolare e dunque è un modo di interpolare in grande dimensione e dunque è anche limitata. E poi dal punto di vista dell'uso nella società che è una cosa molto importante questi giorni e anche può essere molto biasata dal fatto che le database non sono molto pulite o hanno stesse del bias delle domande che sono state fatte che forse non sono nemmeno assenti di bias eccetera eccetera vorrei insistere su questi due punti il primo punto è la data allora abbiamo bisogno di tante immagini per riuscire a allenare questi deep networks questo è completamente dal punto di vista pratica è molto complicato molto costoso e questo vorrei sottolineare che vuol dire che quest'imprendimento questa fase di learning l'imprendimento della rete neurale è molto diversa di quello che fa un umano e questo è interessante per sé volevo mancionare questo piccolo esempio di un di era stato fatto questo qualche anno fa all'Ecole Normale su il modo che hanno i bambini per acquistare le strutture del linguaggio dunque lì hanno giocato con dei con dei bambini con quattro oggetti diciamo uno che si chiama la Kohen il Kabuk Katraker and Korabit poi si gioca oi c'è il Korabit che vuole leggere il Kabuk eccetera eccetera si gioca per un po' e dopo questo si fa una domanda si presenta queste due immagine e si dice al bambino tu puoi guardare dov'è il Ko-Bamul ovviamente Bamul non esiste il Ko e Ka non esistono nemmeno sono stato inventati qui e però qui qual è la vostra risposta chi è che pensa che il Ko-Bamul è questo chi pensa che questo è il Ko-Bamul alcuni molto sono indecisi i bambini sono più decisi di voi e dicono tutti che una grande maggioranza è che questo è il Ko-Bamul perché hanno associato il prefisso Ko al fatto di essere qualcosa di animato questo chiaramente non è più animato di questo però in qualche senso assomiglia a un animale e dunque da questo vuol dire che hanno inferito un risultato con due esempi d'accordo e c'ha GPT per imparare il linguaggio deve guardare tutto quello che è stato prodotto sul web e fare una molla di operazione dunque noi siamo molto lontani dunque questo vorrei sottolineare che mi pare un progetto di ricerca molto interessante di andare a sviluppare nuove teorie nuovi sistemi nuove tecnologie di intelligenza artificiale che siano molto più economici delle risorse diciamo che non usano solo questa forza questa potenza e per esempio trovo interessante questa sfida di costruire un algoritmo che è capace di imparare un linguaggio sulla base di quello che un bambino ha sentito in tutto il primo anno della vita basta e questo corrisponde a una riduzione enorme rispetto a quello che viene fatto adesso la seconda domanda che vorrei sottolineare è che cosa sappiamo sulla deep network che cosa capiamo allora sappiamo tutto questo è magnifico io lo chiamo spesso neuroscientist dream perché è come avere una rete neurale in cui sappiamo tutte le attività di tutti i neuroni e l'efficacità di tutte le sinapsi è una cosa e che cosa dunque avendo questa conoscenza uno potrebbe dire ah ma è magnifico però alla fine capiamo pochissimo capiamo pochissimo perché non siamo capaci di spiegare come viene presa una decisione non abbiamo un controllo di questo processo di decisione e tutta la grande sfida qui è una sfida che si chiama emergence come l'andamento collettivo dei neuroni coda e encoda l'informazione e dunque il fatto che non abbiamo la spiegazione di come funziona vuol dire che non possiamo dare nemmeno una garanzia di che la macchina funziona in tutte circostanze dunque se lo vuole usare per guidare una macchina non è diciamo può essere un problema qui con la parola emergenza vorrei fare dunque il piccolo contatto con la fisica statistica fisica statistica è precisamente questa parte della scienza che fa il ponte fra la teoria microscopica e la teoria macroscopica dunque si può caratterizzare l'andamento collettivo di 10 a 23 particelle usando un numero di parametri che è relativamente piccolo per esempio per un gas sarà la pressione la temperatura il volume pochi parametri che bastano e dunque da un lato c'è questo che si chiama in inglese curse of dimensionality che sarebbe come si diceva curse of dimensionality e dall'altro il fatto di essere in grande dimensione ha anche un vantaggio che ci sono la legge dei grandi numeri eccetera che possono portare a semplificazione che questo viene usato nella fisica statistica l'esempio più semplice è quello del magnete dove gli spins i movimenti magnetici elementari possono puntare in direzioni parallele o antiparallele e le direzioni parallele hanno un vantaggio energetico dunque a bassa temperatura questo si polarizza e fa un vero magnete questo permette di fare di memorizzare l'informazione infatti viene usato anche nei nostri nei nostri computer ma 50 anni fa più o meno abbiamo cominciato a studiare versione disordinati di questo che si chiamano spin glasses e questo è molto importante perché in un magnete normale potete avere due stati che sono stati di equilibrio uno stato dove gli spin puntano maggioranza up e l'altro maggioranza down e questo è interessante però è molto limitato perché fa un encoding di un bit di informazione invece nel vetro di spin che è un sistema disordinato dove gli spin interagiscono con delle costante d'accoppiamento che sono disordinate dipendono dalla distanza fra le impurezze magnetiche lì si può avere una memoria che ha molto più stati informativi dunque il fatto che l'energia ha tanti minimi e ciascuno di quelli può essere usato per fare una memoria o per essere usato in un calcolo e dunque tornando al contatto col machine learning se uno guarda il learning la fase di imprendimento nell'algoritmo si deve minimizzare una certa energia che è la differenza fra quello che produce la machine e il design label quello che uno vuole se è un gatto o un cane allora questa funzione è una funzione da ottimizzare in uno spazio di dimensione 10 era 11 molto grande questo è esattamente il problema che abbiamo con i vetri di spin cioè abbiamo variabili elementari che sono numerosi che hanno delle interazioni un po' strane e qui le interazioni dipendono della database per ciascuno nuova database per ciascuno nuovo problema abbiamo un nuovo problema di vetri di spin dobbiamo trovare il minimo e dunque questo che si chiama il paesaggio d'energia diventa cruciale e dunque imparare costruire una teoria corrisponde a essere capace di controllare questo paesaggio d'energia in particolare nei deep network si vede che andando a delle rete che sono più profonde che hanno più stratti allora il paesaggio d'energia diventa più più dolce e si può più facilmente ottimizzare la grande la grande sfida è che facendo questo uno ha tanti parametri e che uno si aspetterebbe che la generalizzazione sia molto complicata invece sembra di no e questo è ancora un mistero non è ancora una cosa ben risolta dunque per concludere vorrei sottolineare che l'intelligenza artificiale è una rivoluzione tecnologica che sta avendo già adesso un impatto maggiore sulla società e che però per il momento ancora siamo molto abbastanza indietro dal punto di vista della teoria che non abbiamo una teoria che permette né di analizzare bene che cosa sta succedendo in una di questi algoritmi basato su un'analisi teorica solida nemmeno di avere dunque un explainability una capacità a spiegare che cosa fa la macchina nemmeno una garantia che non si sbaglia diciamo possiamo guardare solo il risultato come una black box e dunque penso che la fisica statistica ha cominciato a proporre dei metodi delle vie per costruire questa teoria forse può prendere ancora qualche anno o decine di anni però abbiamo un tempo per noi per riuscire dobbiamo assolutamente riuscire a costruire una teoria di questi nuovi sistemi che sono così importanti e che sono veramente nuovi nel senso della loro capacità a trattare e produrre dell'informazione nuova vi ringrazio grazie mille per questa bella conferenza su cui è ben sottolineato differenza fra quello che capiamo e quello che non capiamo c'è Francesco De Martini che vuole fare una domanda poi vediamo le altre poi Carlo Di Casso poi si può assumere che questo che questo processo è in piccolo il funzionamento corrispondente al funzionamento del cervello o no e cosa ne pensano quelli che studiano il problema della coscienza come Giulio Tononi oppure i neurofisiologi oppure Noan Chomsky che parla appunto di come si forma la sintassi dei bambini piccoli dopo la nascita c'è c'è qualcuno che discute da questo punto di vista oppure no Sì sì ci sono tante discussioni su questo difende abbastanza delle applicazioni in un lato del lato positivo direi che sulla computer vision quello che mostrava un po' di quello che sta facendo una rete neurale nei primi layer fa delle detezioni di cose molto locali diciamo si vede solo se c'è una parete eccetera poi poco a poco si fa delle cose più aggregate questo corrisponde abbastanza alla fenomenologia che abbiamo nelle diverse aree visive di V1 V1 V2 eccetera e dunque c'è questa gerarchia che si ritrova a parte questo ci sono tante differenze in particolare tutte queste regole di imprendimento il grande numero di dati eccetera dunque ci sono alcune cose che si sembrano incorrispondenze ma molto lontano di avere una corrispondenza è una bella domanda secondo me è sapere se sono alla fine due intelligenze diverse o se l'intelligenza artificiale sta poco a poco convergendo verso una teoria che si potrà confrontare con quella che succede nel cervello secondo me per fare questo bisogna veramente andare al di là di quello che è stato fatto adesso e per esempio andare a modelli di imprendimento che usano molto meno della forza brutta del calcolo per avere delle cose che usano anche diciamo la sfida qui è veramente di mescolare l'imprendimento puramente statistico che viene usato qui è un imprendimento sulla base di regole che possono anche essere pre-wired come nel bambino che generalizza da due esempi e dunque mescolare tutti i due è un po' la sfida attuale per fare questo sul linguaggio allora è ancora un altro discorso perché alla fine quello che mostrano gli sviluppi di large language model è che un approccio completamente statistico che è veramente un approccio di un processo stocastico e riesce a produrre delle frasi che sono in modo abbastanza impressionante e corrette meglio di tutto quello che è stato fatto prima sulle regole e dunque io non ho avuto l'opportunità di parlare con Chomsky di questo ma deve essere preoccupato di questo perché ovviamente una grande arriva da un lato completamente diverso di quello che è stato usato finora dall'analisi molto fina della grammatica Carlo De Casso poi Catanese e poi Scherfino grazie Mark per la bella presentazione che hai fatto vedendo le immagini che tu davi della catena di reti neurali e mi veniva in mente chiaramente che il processo era un processo di course graining man mano allora e poi questo c'è stata immediatamente la conferma con l'esperimento fatto sui bambini il gioco dei bambini è come se si saltasse il processo di course graining il bambino fa riferimento alle cose macroscopiche che gli appaiono i giocattoli e da una parte di tipo animale e i giocattoli meccanici o quello che c'era e quindi aveva fatto una distinzione intelligente del processo di course graining l'aveva sviluppato rapidamente che è un po' come quello che facevamo nei sistemi disordinati nei sistemi per le transizioni di fase cioè tu per arrivare a fare una teoria course graining devi usare le proprietà specifiche del materiale devi usare le proprietà di simmetria devi sapere qualche regola e non è questo un processo più rapido di quello che passa attraverso i minimi di un sistema disordinato è vero che ho voluto presentare un po' uno scoppio un po' ampio di quello che viene fatto secondo me nella visione c'è qualcosa di abbastanza particolare che la visione è un processo di analisi di una cosa bidimensionale che naturalmente le immagini che abbiamo che guardiamo mi dispiace di dover parlare di fronte a un esperto della retina ma diciamo queste immagini chiaramente sono gerarchiche diciamo se uno le vuole analizzare e allora infatti sono anche analizzate da questi algoritmi specificamente per la visione sono analizzate un po' usando tipo gruppo di rinomizzazione non ti sorprenderà perché diciamo è quello che viene fatto al contrario probabilmente nei modelli di linguaggio è una cosa un po' diversa di questo ci sono strutture di varie scale però è meno caratterizzato e poi è più facile in qualche caso di identificare un numero più piccolo di parametri d'ordine diciamo di variabile chiave come il bambino che identifica che co e ca è un determinante di animato o inanimato diciamo esatto lo vede lo vede lo vede subito o fa questa ipotesi subito dunque non è che secondo me non è che si può usare esattamente gli stessi analisi sia per le immagini che per l'analisi di testi questi sono campi diversi in tutti i casi vengono usati queste queste rete neurali feed forward tu pensi che l'individuazione di queste chiamiamole classi o come ti pare semplificherebbe il problema invece di cercare di analizzarlo in un sistema disordinato se vuoi sì certamente però secondo me se uno riesce a fare questo uno ha già un po' risolto il problema e questo è la sfida dello sviluppo della teoria infatti diciamo di riuscire a estrarre questi parametri un po' più globali che sono le variabili cruciali al momento non abbiamo ancora non siamo riusciti a fare questo grazie della conferenza che è molto stimolante io sono un matematico anzi mi interesso di algebra e da 40 anni diciamo anche già a lezione ho sempre fatto lezione spiegando il codice del simplesso che in realtà è stato scoperto in maniera complicata da Hemming infatti si chiama il dual Hemming che è molto più complicato e subito quest'idea di una quantità spaventosa di dati da analizzare mi fa venire in mente che sono teorico non sono sperimentale ma quello che uno vorrebbe fare sarebbe di cercare di applicare la theory of error correcting codes perché alla fine sono dei segnali e ci sono un alfabeto infinito però con questa teoria questa simmetria degli error correcting codes si arriva subito a correggere un certo numero di errori certo questa è la mia intuizione matematica poi come ecco c'è una possibilità di metterla in opera sì 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 certo assolutamente non ho voluto parlare dei miei lavori recenti però poco mesi fa ho fatto un lavoro su error correcting codes che sono usati nei modelli moderni che si chiama il meccanismo d'attenzione il meccanismo d'attenzione è quello che viene usato per fare l'infandimento nei language model che è stata la grande scoperta se uno fa un approccio probabilistico a un language model uno vuole imparare vuole indovinare la parola successiva dunque si prende un testo interrompe e uno vuole indovinare quale viene dopo questo si può fare con una probabilità però la probabilità normalmente uno può guardare 10-12 parole di prima non molto di più perché uno non ha la statistica per imparare la regola e allora il meccanismo d'attenzione è un meccanismo che riesce a dire ah ma non guardiamo le 12 parole solo precedente ma guardiamo anche tre o quattro altre che sono forse molto lontano ma sono chiavi perché hanno un impatto maggiore e allora questo meccanismo per analizzarlo abbiamo usato esattamente dei metodi di codici di correzione ma volevo tornare su un punto in cui forse aveva accennato cioè del fatto che nemmeno quelli che hanno costruito questi sistemi dicono si legge capiscono bene come funzionano questi oppure si legge che qualche settimana fa sono sorpresi da risultati nuovi che vengono fuori da questo è la massa enorme di dati o c'è qualcosa di diverso ma all'inizio è già il meccanismo di machine learning machine learning è un meccanismo molto particolare in cui io non sono io io sono un teorico però non è l'ingegnere che sta sviluppando la macchina che decide che questa sinassa fra questo e questo vale punto 7 no non lo decide dice solo c'è una sinassa lì e questo deve essere ottimizzato e come viene ottimizzata dal sistema guardando statisticamente sulla base di una grande quantità di dati il risultato esiste e lo può leggere però da avere quello che stavo dicendo che avere sapere tutto sul sistema non basta per capire che cosa sta facendo fammi dire una cosa cioè prima di farlo non avevi un'idea precisa di quanti neuroni di quanti strati di quanti dovevi mettere era più o meno un argomento che se il numero tende ad infinito la cosa alla fine funziona almeno quasi come argomento nemmeno quello però c'era un'idea poi quello che è successo che ha funzionato con questo numero e adesso però non è che sappiamo se non avessimo un'informazione che funziona sapremmo in grado di dire perché ci servono cento milioni di cento miliardi di parametri per fare un linguaggio buono con questo metodo non lo sappiamo fare non abbiamo idea di come calcolare l'informazione che c'è negli esempi che gli abbiamo dati cioè abbiamo fatto è come fare un pochettino i motori a vapore prima della termodinamica li puoi fare li aggiusti però diciamo ma perché funzionano così buco sì e questo paragone va molto bene perché la termodinamica dà esattamente la teoria che dice ma questi sono i limiti questo una macchina non si può fare un motore che sia un'efficienza maggiore di questo questo è un teorema che si dimostra e questo è quello che stiamo cercando il problema che forse diciamo per sviluppare la termodinamica dal momento in cui sono iniziati a usare i motori termici ci sono voluto 150 anni dunque forse dobbiamo un po' di pazienza per sviluppare la teoria vediamo a livello elementare almeno il neurone il neurone singolo viene è simile a quello umano oppure no cioè quello spin che dice è una caricatura del neurone umano completamente appunto ha degli ingredienti che sono comuni del fatto che interagisce con altri neuroni via le sinapsi che hanno un certo parametro che possono essere eccitatrice o inibitrice e poi da questo manda un segnale lungo l'equivante della SON e lo manda ad altri neuroni dunque l'architettura generale è la stessa il meccanismo è molto caricaturale cioè se uno guarda i modelli di neuroni diciamo più realistici allora questo è veramente una cosa molto molto più astratta che però ritiene ritiene una buona parte del 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 meccanismo cioè quest'idea che un neurone ha una certa processing di informazione che il manda agli altri sulla SON sulla base di quello che ha ricevuto dalle sinapsi di 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 Grazie a tutti.